La concessionaria Rossi Mercedes Benz ha riproposto anche quest'anno Parts Table, l'evento durante il quale incontra officine e carrozzerie del territorio, organizzando un momento di convivialità e incontro per discutere di traguardi raggiunti e nuove progettualità con l'obiettivo di offrire al cliente le migliori soluzioni nel post vendita, cercando di garantire il massimo della qualità. Un evento per fare sidergia, per rafforzare la partnership, per parlare di tecnologie, di innovazione, di sostenibilità e di elettrificazione, per vincere insieme quelle che sono le sfide del presente e del domani. Abbiamo avuto il piacere di ospitare oltre 50 tra carrozzerie e officine del nostro territorio e anche dei nostri importanti partner che sono il gruppo BASF per quanto riguarda quelli che sono i prodotti vernicianti omologati Mercedes Benz e anche la Bellini Systems, un'azienda che ormai è storica, che opera nel nostro territorio e si occupa di allestimenti di carrozzeria. Insieme abbiamo avuto l'occasione di condividere quelle che sono le nuove tecnologie, i nuovi prodotti, per cercare di trovare delle soluzioni, degli spunti su quelle che saranno le sfide che dovremo andare a vincere insieme nei prossimi anni. Per il Part Stable 2023 la Rossi Mercedes ha scelto Monte Rotondo, comune dell'area della città metropolitana di Roma. È stata anche l'occasione per festeggiare la prima candelina della nostra filiale di Monte Rotondo, il fiore all'occhiello del nostro gruppo, ultima nata, che si affianca alle altre nostre sei filiali del gruppo Rossi, che partono dalla sede storica di Perugia e proseguono per Arezzo e Città di Castello nella zona nord e Narni e Piterbo per quanto riguarda la zona sud.